A San Carlo Canavese dal 25 al 28 agosto si festeggia la patronale Madonna d'Europa, un programma ricco di eventi a partire dalla pedorata e gincana, alla processione dei priori e sottopriori, dal ludobus giocoglieri alle esposizioni e alle dimostrazioni di Agilite Dog. Tutte le sere piatti gustosi allo stand gastronomico, ottima musica e grandioso Luna Park. Martedì si termina con il magnifico spettacolo pirotecnico. Festa patronale Madonna d'Europa a San Carlo Canavese dal 25 al 28 agosto, non mancate!